Se siete benvenuti in questo nuovo video, oggi leggeremo la descrizione di questo libro di Robby. Ok, vediamo pagina. Ok, vediamo pagina. Ha altri piani dopo la sconfitta di qualche tempo prima. Non vede l'ora di vendicarsi. È per farlo. È disposta a tutto. Persino ad aiutare un tipaccio che brama per sé il potere assoluto. È po' che importa se ha da andarci in mezzo all'universo intero. Riusciranno, Robby e i suoi amici, a salvare i petto leggendari e a sventare la nuova minaccia. Della canzone avevo ragione in fondo.